Ferraro Caratterizzare Ferraro dal 1946 agli anni 70 è stato come intraprendere un viaggio con i ragazzi alla scoperta della storia, dell'urbanistica, della cultura e della società è stato un lavoro complesso se dovessi riassumerlo in tre parole direi ricerca, fatica e impegno e tuttavia quando alla fine del percorso il sipario si è spalancato su quanto avevamo esplorato sulle narrazioni dei ragazzi le descrizioni dei quartieri gli sketch e i lavori artistici realizzati è sceso su tutti noi un senso di grande soddisfazione e questo è il lavoro della terza G della scuola media boiare ma come sarebbe costruire una città per davvero? Monumenti aperti Salve a tutti oggi parleremo della storia di Ferrara che va dal 1945 al 1960 partiamo Ferrara fu liberata dal nazifascismo il 24 aprile 1945 il primo sindaco della città libera fu Michele Tortora il 30 marzo 1946 alle elezioni comunali visero i comunisti seguiti da socialisti e democristiani nel referendum del 2 giugno per la scelta tra monarchia e repubblica a Ferrara visse largamente quest'ultima Ferrara in quegli anni era molto povera a questa situazione già disastrata si aggiunsero poi ulteriori disastri naturali tra il 1949 e il 1951 si riparano più volte il Reno e poi il Po con la peggiore alluvione dell'epoca contemporanea la famosa rotta del Polesine a Ferrara era tempo di ricostruire si rifece come era e dove era la chiesa di San Benedetto Marcello a Piacentini ricostruì il Palazzo della Ragione mentre su Viale Cavour sorsero imponenti edifici multipiano tra il 1958 e il 1963 venne costruito il quartiere di abitazioni popolari Ina Casa del Barco che grazie ad una stagia di distribuzione di spazi architettonici divenne il simbolo di un tentativo di urbanistica a misura d'uomo fu ricostruita la zona industriale pesantemente danneggiata dai bombardamenti nella zona tra il Doro e Ponte Lago Scuro il cui principale polo era la Monte Catini poi Monte Edison fabbrica petrolchimica tra le più importanti d'Italia che occupava migliaia di lavoratori in quegli anni inizia la collaborazione con un brillante chimico ligure Giulio Natta che inventò la molecola di polipropilene viene realizzato per esempio il Moplen per la produzione di oggetti in plastica di varia natura intanto imponenti opere di munifica ripararono i danni causati dall'abbandono del territorio durante la guerra e dagli allagamenti dovuti alle alluvioni ma come era la società ferrarese in quegli anni? la società ferrarese sta radicalmente cambiando la scolarizzazione più elevata e la divisione in ceti sociali molto più sfumata sono anche migliorate le condizioni di vita delle donne che nel 1946 avevano votato per la prima volta come nel resto d'Italia salve ragazze come mai tutte qua? oh non lo sai stiamo qua per votare votare? ma guardate che non possiamo ma questa perde colpi pare comunque anche noi dame possiamo votare ma come? da cosa nasce cosa c'è stato un duro lavoro dietro chi l'ha fatto tutto sto lavoro? ma che sei tonta? ma che tonta? sono seria! le donne ragazza mia le donne donne proprio come te ma non te e quindi possiamo votare? si e chi votate? e non possiamo mica dirtelo ma poi chi votate? repubblica e tu? ehi aspettatemi ed eccoci nel quadrivero assettiano accanto al famosissimo palazzo di diamanti è da qui che vogliamo far partire il nostro piccolo viaggio in questo quartiere il quartiere arrivò sino al novecento con un suo impianto urbanistico pressoché immutato tuttavia durante la seconda guerra mondiale l'intera zona fu bombardata subendo numerosi danni agli edifici per questo motivo il comune deciso di dotarsi di un piano di ricostruzione quello per il quartiere a Rionuova fu approvato nel 1951 e poi attuato e portato a compimento negli anni successivi tra il 1949 e il 1951 venne progettata anche una vasta zona che in quegli anni ancora non era urbanizzata ci troviamo in via 25 aprile dove da un altro possiamo ammirare i giardini e dall'altro portare il progetto in a casa questi edifici sono stati costruiti nel 1955 con i finanziamenti del piano in a casa come si capisce anche dalle formelle colorate che troviamo sulle facciate delle palazzine l'istituto autonomo per le case popolari incaricò tra gli altri gli architetti Michelucci e Minucci dell'attuazione del piano di edilizia economica popolare gli edifici sono ispirati alla corrente architettonica del razionalismo si tratta per lo più di volumi bassi circondati da spazi verdi privati caratterizzati da facciate con una finitura in tonacato o in mattone in testa al parco verde del quartiere trova collocazione la chiesa la chiesa dell'immacolata che è stata costruita tra il 1965 e il 1967 dall'architetto Pierluigi Giordani questa chiesa fu concepita con una struttura davvero innovativa per quegli anni guardate quanto è alta e la sua buia è slanciata verso il cielo ci troviamo in un parco molto, molto affollato ovviamente affollato dalle foglie ma negli anni 60 sarebbe stato pieno di ragazzi qui termina il nostro giro in questo quartiere speriamo di avervi incuriositi con il nostro racconto chiude il video oggi ci troviamo a barco sulla via Ventivoglio la strada principale è attorno alla quale si è sviluppato tutto l'abitato il quartiere fu costruito nei primi anni 40 vicino al petrolchimico con lo scopo di creare alloggi popolari per gli operai della nascente industria ma andiamo a vedere più da vicino salve, benvenuti a barco su, venite con noi benvenuti in questa bellissima via via dell'indipendenza il quartiere dell'inacasa di barco è uno dei più grandi complessi dell'edilizia residenziale pubblica realizzati a Ferrara nel corso del secolo passato è stato interamente costruito con i finanziamenti dell'istituto nazionale delle assicurazioni per il piano nazionale dell'inacasa il piano seguiva lo stile architettonico di quel periodo che mescolava la tradizione locale con i caratteri dell'architettura razionalista la quale dava molta importanza ai nuovi materiali e alle innovazioni tecnologiche ed era anche attenta a progettare spazi urbani che migliorassero la vita degli abitanti della città dopo qualche passo come seconda tappa ci ritroviamo di fronte alla biblioteca comunale intitolata Giorgio Bassani nell'esterno della biblioteca ad accoglierci c'è il busto di Giorgio Bassani scrittore, poeta e politico italiano Bassani nasce a Bologna nel 1916 da una benestante famiglia ebraica originaria di Ferrara è l'autore del famosissimo libro Il romanzo di Ferrara dopo la sua morte avvenuta nel 2000 il suo corpo è stato sepolto nel cimitero della Certosa e a lui intitolati Parco Urbano e questa biblioteca eccoci arrivati alla fine del nostro breve viaggio nel quartiere di Barco abbiamo deciso di condurvi qui davanti a questa enorme e coloratissima opera di street art a salutarvi con questa bellissima citazione di Bassani prima di continuare il nostro tour alla scoperta di Ferrara contemporanea la paura anche in arte è sempre stata una pessima consigliera buongiorno 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 siete pronti per il vostro primo giorno di lavoro? direi di sì visto che sono qua certo ascolta bello, io sono in posta ma ho fatto una cagiazza io ho sempre avuto un lenti camp e una sobrisa come si lavora a Montedison credo solo che basterà a scoprire il campo credo di sì avete ragione ma voi avete mai lavorato in un'industria? no mai ma dicono che si pagano molto di più rispetto ai campi qui sì l'ho sentito anch'io attenzione allontanatevi un attimo che adesso ho fatto i cancelli vestiti e usanze anni sessanta buongiorno e bentrovati oggi proviamo a conoscere insieme una pagina della storia di Ferrara veramente interessante nel secondo dopoguerra Ferrara iniziò la sua ripresa economica e non solo infatti la cultura incomincia ad essere una parte importante per lo sviluppo della città così nacque alcuni circoli culturali in cui si inizia a discutere per esempio del restauro del patrimonio architettonico e delle tradizioni ferraresi si parla anche di musica, letteratura, cinema e arte uno dei circoli nacque a casa Minerbi un'antica e meravigliosa dimora ferrarese in viaggioco del pallone Giuseppe Minerbi tra il 53 e il 61 decise di restaurare la propria abitazione a scavalco fra l'antico e il moderno qui sorse il circolo di cui fece parte anche Giorgio Bassani scrittore ferrarese conosciuto in tutta Italia insieme ad altri artisti di talento Bassani nutriva una grande passione per questa città che non gli aveva dato i natali a casa Minerbi fondò anche l'accettazione Italia Nostra che tuttora si occupa della tutela del patrimonio artistico italiano nacque a Bologna nel 1916 da una famiglia di origini ebraiche dopo il 1945 inizia ad occuparsi di letteratura e non solo lavorò anche nel mondo della televisione diventando vicepresidente della RAI tra i suoi libri più famosi troviamo Il giardino dei Finzi Contini del 62 e Gli occhiali d'oro Ma ricordiamo che oltre a Bassani Ferrara fu la città natale anche del regista Michelangelo Antonioni nato nel 1912 il quale prese una laurea in economia ma con l'aiuto di uno dei suoi amici si avvicinò al mondo dello spettacolo girò il suo primo cortometraggio Gente del Po nonostante il periodo di guerra nel 1950 diresse il suo primo film e da lì cominciò la sua carriera nel cinema realizzò film a Londra e in America e nel 1995 vinse l'Oscar alla carriera ma in questa fervente città nacque anche un altro grande artista del 900 Florestano Vancini esordì con il lungometraggio La lunga notte del 43 indimenticabile film tratto proprio da un racconto di Bassani La tecnica che vedete viene chiamata dripping letteralmente sgocciolamento e fu messa a punto nel 1947 dall'artista americano Jackson Pollock il principale esponente della corrente artistica dell'action painting Vi chiederete Ma cosa c'entra Pollock con la Ferrari di quest'epoca? Le sue opere d'arte sono state fonte di ispirazione per il registro ferrarese Michelangelo Antonioni per la famosa scena finale del film Zabrisky Point del 75 che vi invito a vedere Bellissimi anni 70 Immaginate di possedere una macchina del tempo e di tornare indietro fino agli anni 60 e 70 con medicamenti culturali, politici e sociali Siete pronti? Andiamo! Dopo la seconda guerra mondiale il USA e l'Unione Sovietica sono i due giganti economici militari contraposti nella cosiddetta guerra fredda Il nostro viaggio inizia nel 1960 con l'elezione della Casa Bianca di Kennedy che dopo è riuscito a giuntare con delle trattative la crisi di Cuba e la guerra nucleare viene assassinato nel 1963 a causa delle sue scelte politiche come la lotta di riscopazione e la povertà Nel 1961 nel corso di una notte viene edificato il tenestemente Cielo per il muro di Berlino Contemporaneamente in Inghilterra quattro ragazzi con il caschetto stanno creando il Musga a metto in vita prima Nell'America di questi anni è ancora molto rifugio il razzismo combattuta dal posteri progressante Martin Luther King il quale nel 1964 riceve il Nobel per la pace la morte nel 1968 ucciso una pallotto dalla testa In fin del 1969 Cielo era un elemento epocale con il programma spaziale a polvo gli Stati Uniti sbarchano sulla luna vincendo la fredda che corse lo spazio contro i vari russi Dopo tre anni di truppo americano in Vietnam si scatenano molte proteste nelle università statunitense rischiano pace e rinnovamento Le contestazioni si spostano rapidamente in tutto il mondo fino all'Europa Sovietica dove la primavera di Praga viene brutalmente reveressa Questo fenomeno di grande solidarietà sociale è noto come il 68 dall'anno in cui è raggiunto il suo apice Ma nel frattempo che cosa sta succedendo in Italia? Siamo ormai negli anni 70 come effetto alla rivoluzione culturale si ottengono importanti riforme la legge sul divorzio l'abbassamento a 18 anni del voto e la parità tra i contigi Purtroppo sono anche gli anni di Piombo con la strage di Piazza Fontana e rapidamente un uccisione da parte di Birate Rosso e di Aldo Moro Questi trissimenti sfociano il compromesso storico ma è a questo punto che ci vogliono sultare perché la macchina alle tempe è giunta a termine del suo viaggio Ed eccoci arrivati al Doro in questa zona di espansione residenziale nell'immediata periferia della città Il territorio è entramente attraversato dalla trafficata strada statale 16 individuabile nelle vie cittadine denominate via Le Po e via Padova arterie stradali fondamentali Anche quest'area della città è stata progettata e costruita a servizio dei lavoratori della vicina zona industriale per offrire alloggi a prezzi contenuti Come si può vedere nel quartiere sorgono diversi edifici moderni di legni di nota come l'importante complesso residenziale della Montecatini costruito nel 1955 dall'architetto Sgrelli per i dirigenti della Montecatini che si trasferirono all'abitare a Ferrara dopo l'apertura dell'industria Nel quartiere sorge anche uno dei primi esercizi commerciali tutt'ora in attività il ristorante Aldoro conosciuto anche come Caffè del Doro Poco più avanti sorge anche un importante complesso residenziale di case popolari progettato all'inizio degli anni 70 dall'architetto Via Ricuigli Il progetto prevedeva un'aggregazione di sei edifici a torre e due case in linea collocate in una fascia urbana tra via Padova e la ferrovia circondati da ampi spazi verdi furono realizzati per ospitare 168 loggi per le famiglie a basso reddito L'uso delle facciate e mattoni a vista rende questo intervento tipicamente ferrarese ma in questo caso le parti in calcestruzzo sulle facciate ne fanno intuire la modernità Il progetto originale del quartiere prevedeva anche la realizzazione di alcuni servizi ma solo il supermercato è stato effettivamente realizzato Il nostro breve tour alla scoperta del Doro finisce qui ma che ne direste di continuare con noi questo viaggio? Prossima tappa, Porotto La frazione di Porotto è collegata al centro cittadino da questa bella pista ciclabile che oggi noi abbiamo percorso per portare a vedere questa parte del nostro territorio Andiamo! Questa zona era per lo più disabitata fino agli anni 50 quando, grazie alla crescita urbanistica di Ferrara l'abitato della città si è espanso anche nei territori limitrofi arrivando sino a Porotto Negli anni 50 questa era una zona di campagna poi iniziarono a storgere le prime case fino ad arrivare alla via che possiamo percorrere adesso Qui abitavano principalmente famiglie del ceto medio e operai che lavoravano alla Montedison Siamo davanti alla scuola dedicata al maestro Adriano Franceschini e laggiù c'è la sua lapide commemorativa Adriano Franceschini è stato un maestro che è assinato per molti anni in questa scuola affiancando a tale attività quella di studioso e ricercatore storico Per chi ancora non lo conoscesse Adriano Franceschini è stato uno storico che si è interessato particolarmente alle vicine locali di Ferrara e anche a quelle di Porotto pubblicando saggi sul ghetto ebraico sui commerci e sulla vita medievale e rinascimentale e interessanti da leggere Il nostro tour fa tappa all'asilo nido e ciliegio inaugurato negli anni 70 per far fronte al boom demografico che si ebbe a Ferrara in quegli anni L'asilo è circondato da ampi spazi verdi in cui i bambini possono giocare Poco più avanti si trova infatti un piccolo parco verde compreso dalla via Todeschi e via Ferniani realizzato con l'espansione degli anni 70 insieme all'asilo nido Ci troviamo davanti al campo sportivo di Porotto titolato Dieci martiri proprio perché qui pochi giorni prima della liberazione furono uccisi dieci giovani per aver distribuito volantini antifascisti Questo campo sportivo è stato creato a metà anni 70 per poter dare una possibilità di sfogo e divertimento ai ragazzi di questa zona Su Via Deci martiri una delle strade principali della cittadina di Porotto si affaccia la chiesa dedicata ai Santi Filippo e Giacomo consulcrata nel 1727 Questa chiesa è ancora oggi il maggiore luogo di aggregazione della cittadina ed era qui che il nostro tour finisce speriamo che ci faccia di vostro interesse Una nuova Ferrara Oggi siamo qui per intervistare mio nonno Ronzo di 76 anni che ci racconterà com'era a vivere negli anni 50 e 60 Com'era e cosa si studiava a scuola quando tu eri bambino? Quando ero piccolo io a scuola avevamo solo due libri un sussidiario e il libro di storia in prima e in seconda elementare Che mezzi di trasporto c'erano? Biciclette Biciclette I brussin coi calai motorini moschito qualche lambretta e qualche macchina tipo Topolino 1100 la 500 Che passatempi c'erano allora? Allora i passatempi a quell'epoca erano pochi ricordo qualche partita pallone in cui spesso il pallone non era in cuoio come si usa adesso ma era costruito artigianalmente con carta di giornale e qualche strada Come erano i cinema a Ferrara? La gente il cinema lo prendeva come punto di riferimento al sabato alla domenica forse la domenica solo e poi ci si andava a piedi perché non c'era un'auto oppure in bicicletta e poi era questa grande stanza dove si poteva anche fumare Ci sono andate in Cina di sale cinematografiche tipo Apollo, Apollino, Il Verdi, Lastra, Capito e altri di cui non ricordo il nome Ma in quegli anni sono stati modernizzati anche i Lidi? Beh, non si può nascondere che la provincia ha attrezzato alcune decorose spiagge che richiamano ospiti in visita Cosa ti è rimasto impresso di quegli anni? Mi è rimasto impressa la moda mi piaceva molto e mi piace anche adesso la moda di quegli anni anche se ero piccoletta portavo le minigonne i pantaloni a zampa di elefante e mi piaceva molto anche la moda Ciao Alessio! Ciao Francesco, come stai? Ma stai molto bene ho fatto il mio primo viaggio in seggio via Sei andato in montagna vestito così? No, al mare, al Lido di Spina Come al mare? quelle stanno in montagna E' vero che tu non viaggi molto c'è una seggio via pure là il vescovo ha deciso di inaugurare questa seggio via così ho voluto fare un giro Ah davvero? Com'è stata? E' molto divertente tra il fatto che sono quasi caduta Beh, ti stai sto che ti viene a valutare con me E' vero che sono un poveretto Chi sarebbe il poveretto? Tu sei un poveretto Buongiorno Oggi intervistiamo il Presidente della Spau Paolo Mazza Buongiorno Cosa serve per essere un nuovo presidente nel calcio di oggi? Oggi bisogna essere dittatori uno solo deve comandare gli altri eseguono E quando avremo un nuovo dittatore, un nuovo presidente? Ah, prima o poi ci sarà un nuovo presidente spero il più tardi possibile In città non sembra che ci siano candidati papabili Io non vedo neanche Vescovi figuriamoci Cardinali e Papi Come sta andando la Spau quest'anno secondo voi? Speriamo di salvarci e di valorizzare i nostri giocatori In bocca al lupo, arrivederci tutti Arrivederci, grazie Grazie Ehi, sei in ritardo? In ritardo? Ma per cosa? Sta per passare Andy Warhol Stavo andando nel suo hotel L'hotel Astra È il di chi? No, non lo conosco Sono qua dalle sette tre quarti Ma tu sei pazza Perché è così famoso? Hai presente Marilyn, Marilyn Monroe? Sì, non dirmi che è stato lui a ucciderla Perché se no si prepari a prendere calci nel sedere Ma no, non è stato lui Hai presente il quadro di Marilyn Quello che sembra un po' un fumetto Certo, allora? L'ha fatto lui Davvero? E come mai è qua Ferrara? Il collezionista Franco Farino Ha inaugurato una mostra E lo ha invitato Wow, allora è proprio un onore Averlo Eh già Dai, smettiamo di fantasticare Andiamo Sì, andiamo Andy! 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 Per me è tutto male Ciao! Grazie.